Il concorso premio Rodolfo di Pizzer è giunto alle prove finali, in cui i concorrenti seguiranno i concerti del 800 e del 900, accompagnati dall'archestra sinfonica dell'Accademia Musicale di Zenko, di Ideopoli, in Ucraina, diretta dal maestro Yuri Berwetsky. E tengo a porgere un caroso saluto e ringraziamento da parte del consiglio direttivo dell'Associazione di Pizzer alla giuria, presieduta dal compositore italiano, il maestro Mario Garuti. Vi informo che domenica 15 settembre, preceduto con inizio all'area 19 da cerimonia delle premiazioni, avrà luogo il concerto dei laureati, anch'essa con l'orchestra sinfonica dell'Accademia Musicale di Zenko, che abbiamo il piacere di ospitare, e come consuetudine in quell'occasione si esibiranno tutti i finalisti. E questi appuntamenti domenicali concluderanno il quattro tersimo concorso premio Rodolfo di Pizzer. Signore, inoltre, che i video dell'edizione del 2024 del concorso di Pizzer sono disponibili su YouTube e trovabili cercando di Pizzer 2024. E porgo un grazie speciale a Damiana Cescutti e Alessandro Bonfanti per il loro prezioso lavoro e la diffusione del concorso di Pizzer a livello internazionale. Adesso i sei finalisti saranno E tengo a precisare che gli ultimi tre di questi concorrenti si esibiranno alle prove finali di domani, anch'essa alle sette e mezza in questa sala. Quindi passo adesso ad annunciare il primo benedista della serata, Sincishin Rodion di 26 anni, di nazionalità e cittadinanza ucraina, che eseguirà nell'ordine il primo movimento del concerto in da minore opera 53 di Witworak e il concerto in re minore opera 47 di Siberius nella revisione di 1905. E dopo questo concorrente ci saranno 10 minuti di intervallo. Vi auguro un buon ascolto. Un saluto al maestro Fransowski. Un saluto al maestro Fransowski dell'orchestra. È tutto l'orchestra. È tutto l'orchestra. Grazie. 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 Grazie.